ciao ragazzi benvenuti nella fabbrica del pane io sono vito il vostro panettiere sin da piccolo vivo nel profumo e nella fragranza del pane mio nonno era un mugnaio mia mamma una panettiera il mio desiderio quello di trasmettervi la mia passione il pane eccolo gli ingredienti per fabbricare il pane sono la farina l'acqua il lievito e il sale messi insieme questi ingredienti costituiscono l'impasto una volta formato l'impasto bisogna farlo lievitare per circa 40 minuti dopo di che si mette sul piano di lavoro si spezza e si forma una volta fatta la forma la si lascia lievitare per altri 30 40 minuti il pane una volta lievitato si passa in forno il tempo di cottura varia tra i 15 ai 30 minuti dipende dalle dimensioni della forma passato in forno e trascorso il tempo necessario per la cottura si ottiene il pane come potete osservare dalla cesta noi ogni giorno produciamo tantissimi tipi di pane il grano duro giallo pane integrale marrone con le scaglie della fibra il pane bianco bianco come la farina questo tipo di pane potete farlo anche voi a casa noi lavoreremo con la farina bianca tipo 00 prendiamo la farina facciamo la fontanella che ospiterà l'acqua necessaria all'impasto poi prendiamo il lievito lo sbricioliamo e lo sciogliamo in acqua lo versiamo nel nostro impasto impastiamo prendiamo il sale impastate per 20 minuti e ottenete questo tipo di impasto copritelo con un tovagliolo e lasciatelo riposare per circa 30 minuti questa è la nostra pagnotta la incidiamo ed è pronta per essere infornata ecco il pane pronto per essere assaggiato a presto ciao ciao